Buonasera e ben ritrovati dai campionati CAI. Questa sera siamo alla Biffi per la finale dei playoff promozione di Silver League di calcio a 7. Si sfidano i padroni di casa di Raya Casali e la vera mozzarella di Bufala. Raya Casali in maglia azzurra schiera a Minchev, Elalawi, Elkampch, Aidara, Mansoum, Boaddiwi, Ghidawi, Fennani, Nassiri, Zaharawi e Jebali. Risponde invece la vera mozzarella di Bufala in maglia verde che schiera a Gobbi, Pugliese, Degani, Petrov, Vargas, Quatrale, Albasi e Picacu con allenatore. Mister Cerbone, arbitra la gara il signor Andrea Canepari. Nel primo tempo grande possesso palla di Raya Casali come in questo caso il lancio lungo in avanti viene però intercettato dalla difesa avversaria. Poi il pallone di Pugliese in avanti per Vargas. Si libera di un difensore poi però tu per tu col portiere si lascia ipnotizzare. Grande intervento dell'estremo difensore si rimane sullo 0-0. E questa era l'unica occasione del primo tempo. Arriva il duplice fischio del direttore di gara. La prima frazione termina reti inviolate sul punteggio di 0-0. Nella ripresa Raya ci prova con Mansoum direttamente dal kickoff. Va con il destro il difensore sulla traiettoria. Allontana il pallone. Poi c'è questo calcio di punizione sempre per Raya Casali con Aidara. Il numero 6 va direttamente in porta con il destro. È bravissimo ad angolare il pallone. Altrettanto bravo il portiere a respingere la sfera. Ottima azione ancora dei padroni di casa. La sfera viaggia da sinistra a destra. Il pallone poi in mezzo per Ghidaoui che va a botta sicura. È miracoloso il portiere però a respingere con il piede e a salvare. Letteralmente il risultato si rimane sullo 0-0. Ci riprova però sempre Raya. Questa volta il pallone indietro sempre per Mansoum che va con il mancino. Il portiere tocca anche questa volta ma non basta. La sfera entra ed è 1-0 per Raya Casali. Ancora Mansoum qui scatenato sull'out di destra. Supera un difensore. Il pallone in mezzo per Fennani che da due passi non può sbagliare. Mette dentro il gol del 2-0 che di fatto chiude il match. Arriva qui il triplice fischio dell'arbitro. Raya Casali supera per 2-0 la vera mozzarella di Bufala e si aggiudica la vittoria per la promozione.